buonasera benvenuti a tutti noi in questo momento siamo in compagnia di una delle grandi signore della narrativa italiana una mente una intellettuale fine attenta soprattutto una grande osservatrice di quella che oggi il mondo e la cultura italiana lo ha osservato il mondo e la nostra società che cambia attraverso i suoi libri lo ha fatto oggi con un saggio sto parlando della signora da ciamaraini che la sia sia chiaro e la vera signora del romanzo storico oggi in Italia ed è anche una eccellente saggista oggi presentiamo parliamo con lei di questo questo lavoro eccolo qui la scuola ci salverà è un testo molto particolare che mi ha subito affascinato sia per la sua costruzione sia per la voce che racchiude in realtà è diviso appunto in due parti nella prima parte troviamo la raccolta un po' un florileggio di quelli che sono i gli articoli di giornale soprattutto gli articoli della rubrica il sale sulla coda che la signora maraini ha tenuto per molto tempo e dall'altra parte abbiamo dei racconti che parlano di queste figure così particolari che come al solito con poche pennellate di maestria di bravura lei riesce a delineare personalmente essendo io una docente mi sono soffermata ho trovato particolarmente in particolare particolarmente forte particolarmente importante anche tutto quello che riguarda proprio la scuola o meglio il modo in cui lei che è una donna di straordinaria grazia di straordinaria intelligenza lei riesce proprio a parlare della scuola pur non vivendola da insegnante questo mi ha mi ha molto colpito giusto proprio per per introdurre il tema ci sono tantissimi aspetti che in questo testo lei esamina con con acutezza con con sensibilità soprattutto con grandissima intelligenza emotiva perché è facile parlare il salare zero della scuola come spesso accade lei invece però a questa ha avuto questa grande capacità questa visione di cui proprio per cui mi sento di ringraziarla mi sento di ringraziarla esattamente come docente perché veramente ha guardato oltre le oltre le barriere oltre le barriere che spesso affliggono la nostra la nostra posizione o meglio il modo in cui la posizione dell'insegnante viene vista ecco nella prima parte come dicevo della della scuola ci salverà c'è un lavoro di grandissima indagine di grandissima attenzione nei confronti della scuola vista però non come un nodo di polemica come un punto di difficoltà di un qualcosa di marcio come spesso viene indicato e come talvolta nelle narra in certi tipi di narrazioni viene ad essere descritta la scuola oggi viene vista dalla signora maraini proprio come un punto invece da cui partire non da cui ripartire mi piace proprio utilizzare questa specificità questa partenza nuova che si può verificare specialmente oggi che stiamo uscendo da un meno si spera che stiamo uscendo da un periodo particolarmente complicato innanzitutto la cosa che proprio che caratterizza l'approccio che caratterizza questi testi è dato dal fatto che tantissimo la signora appunta la sua attenzione su quello che è il valore del personale della scuola su quello che è il valore degli insegnanti e quando parlo di valore degli insegnanti intendo proprio non la loro preparazione quanto piuttosto la loro volontà la loro capacità il loro mettersi al servizio di una causa più grande qual è questa causa è quella della formazione dei ragazzi che non è una mera formazione scolastica è una formazione a 360 gradi la professoressa che incontra lei per esempio nel momento in cui si parla in questo momento dovrei recuperare la pagina ecco in cui parla specificatamente del modo in cui si può avere l'integrazione all'interno della scuola al momento in cui racconta le vicende di un gruppo di ragazzini che sono che frequentano un istituto scolastico e che sono immigrati con quelle insegnante dimostra come davvero oggi la scuola abbia tanto di buono abbia tanto di valido da poter raccontare lei riesce a farlo in una maniera assolutamente magistrale una maniera che davvero mi ha conquistato per la sua semplicità e soprattutto per la purezza dello sguardo che lei ha ecco ci sono tutta una serie di punti che possiamo esaminare e che vorrei approfondire con lei ma prima di tutto vorrei proprio puntare l'attenzione su quello che mi ha veramente conquistato cioè il riconoscimento da parte di una donna come lei del valore positivo dell'immaginazione all'interno della scuola perché mentre eh oggi la scuola che noi ci troviamo dinanzi è una scuola che è sempre più spesso figlia purtroppo di quella precipitato o aziendalistico della soprattutto della prima parte degli anni duemila invece lei con i suoi scritti con il valorizzare le umanità eh le varie le differenti personalità della scuola non ha fatto altro che mettere luce a ciò che davvero rappresenta l'anima forte della scuola l'immaginazione l'immaginazione degli alunni e l'immaginazione degli insegnanti e proprio vorrei partire proprio da questo nel cederle la parola e nel chiederle come eh oggi secondo lei è cambiata la scuola e come si è rapportata in questi anni nel mondo della scuola cosa cosa ha visto di bello di nuovo di di forte da poterci raccontare grazie Stefania tanto voglio dire che Stefania oltre a essere una insegnante e una scrittrice straordinaria eh lei gliel'ho detto che il libro veramente mi è piaciuto tantissimo penso che sia uno dei libri più belli che siano usciti recentemente sono onorata no 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 sincero allora veniamo alla scuola che che io conosco appunto non dall'interno come non lavoro nella scuola però ci vado spessissimo perché mi invitano e perché ho un buon rapporto con gli studenti proprio perché io vado per dialogare non per insegnare per non non credo non credo più che ci sia questo rapporto che secondo me c'era quando io andavo a scuola quando ero una ragazzina c'era l'idea che l'insegnante aveva era quello che portava una specie di ehm carico di di esperienze di eh dottrina e che eh la la doveva versare su sugli ignoranti invece secondo me e e la scuola è proprio un dialogo e e si apprende da tutte e due le parti e quindi è un momento di grande costruzione della psicologia sociale quello è il punto della scuola secondo me quindi ecco storicamente paradossalmente è successo secondo me è naturalmente la mia idea è successo questo che prima del 68 la scuola eh funzionava dal punto di vista ehm istituzionale comunque aveva una sua sacralità poi dopo il 68 purtroppo eh si è persa questa sacralità però paradossalmente sono migliorati gli insegnanti molto migliorati io se vi paragono a quelli che avevo io era un disastro ehm nella maggioranza poi qualcuno si levava ma per ragioni proprio personali mentre dopo il 68 la qualità degli insegnanti è migliorata moltissimo secondo me è migliorata proprio come come consapevolezza come rapporto con gli studenti finalmente gli studenti sono sentiti protagonisti non a caso il 68 è nato nelle università nelle scuole è nato e quindi proprio ha cambiato il rapporto con l'apprendimento però invece come istituzione la scuola è andata peggiorando sempre e tutte le le riforme non hanno fatto che eh peggiorarla perché sono riforme per esempio l'ultima tipo diciamo così quella un po' nella mentalità di Berlusconi era quella che la scuola era un'azienda no? Doveva diventare un'azienda è vero? Eh eh quanto danno? Quanto quanto danno? Era proprio questa dice la scuola deve essere un'azienda e secondo me è proprio esattamente il contrario è non è un'azienda non deve produrre nulla deve semplicemente formare che è un'altra cosa non è un'azienda anzi bisogna investire a vuoto cioè senza pensare di dover recuperare qualcosa dal punto di vista economico la scuola è il più grande investimento che deve fare uno stato perché per il suo futuro e quindi non deve assolutamente aspettarsi chissà che cosa della scuola deve aspettarsi semmai una formazione cittadino è un'altra cosa che dico sempre che in una società come la nostra no? Eh tu lo sai bene perché scusati ti do del tu ma penso che prego 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 in nome della letteratura eh della narrazione eh no dicevo che in una società come la nostra in cui la famiglia è così importante no? È veramente una una società familista e in cui i ragazzi se ne vanno da casa solo quando si sposano e non come in altri paesi diciamo così più avanzati da questo punto di vista in cui i ragazzi a quindi 16 anni vanno in college e lì cominciano a vivere socialmente con altri coetanei e lasciano la famiglia no? Ecco da noi invece è una società molto familista per questo ancora di più secondo me la scuola è importante perché si impara a non pensarsi soltanto come membro di un clan che tende a chiudersi e tende a avere le sue regole che sono basate sulle sulle emozioni e sui sentimenti ma a diventare cittadini a confrontarsi con altri anche per esempio altri di altre regioni di altri paesi di altre culture questa è anche la scuola questa è anche la scuola moderna e su questo secondo me appunto la scuola sta facendo molto però dipende tutto adesso non dipende più dall'istituzione dipende dagli insegnanti e secondo me la rete degli insegnanti che oggi ci sono in maggioranza eh è una rete veramente straordinaria e gli insegnanti eh sostituiscono quello che una volta era l'istituzione e quindi fanno un lavoro doppio e fanno un lavoro straordinario io infatti veramente rimango sempre molto colpita quando vado nelle scuole perché vedo che poi gli insegnanti hanno tutto il carico sulle spalle e fanno loro naturalmente ci sono anche alcuni insegnanti che invece non lavorano non fanno non gli importa niente o comunque lo prendono come un mestiere come un altro e quelli producono disastri però devo dire la verità almeno nel suolo che ho visto io dall'estremo nord all'estremo sud ci sono veramente tanti ma più di quanto noi pensiamo insegnanti soprattutto donne perché sono maggioranza perché un lavoro pagato poco quando i lavori sono pagati poco lì c'è sempre maggioranza femminile e penso che effettivamente eh io devo non posso che ringraziare perché se non fosse per questi insegnanti la scuola sarebbe già crollata totalmente esatto e aggiungo sul problema dell'essere pagato poco spesso si ha anche l'idea che l'insegnante sia un un lavoratore di serie B perché eh ai famosi tre mesi dell'anno di di vacanza eh in realtà c'è tanto mi verrebbe da utilizzare questa espressione c'è del sommerso nel lavoro degli insegnanti qualcosa di cui nessuno parla e non è soltanto il progettare l'attività eh fare le riunioni pensare a come organizzare il lavoro perché un insegnante scrupoloso io ho la fortuna di conoscerne alcuni sono quegli insegnanti che si alzano molto presto al mattino per preparare eh una una lezione nella maniera adeguata tenendo conto delle classi che si trovano davanti sono quegli insegnanti che spendono il loro tempo anche eh oltre il proprio orario scolastico per fare eh gli help desk cosa che per esempio con la pandemia stanno diventando per fortuna frequenti però volevo riportare un po' l'attenzione su questa pagina che mi aveva colpito come avevo accennato poco fa e ehm siamo a pagina cinquanta del suo libro lei parla appunto della scuola media di Gioia dei Marsi in provincia dell'Aquila mi ha davvero colpito il modo in cui la l'insegnante eh ha ha condiviso eh per proprio per conto riguarda il eh la questione più che il problema perché non mi piace definirlo problema tutt'altro anzi è un una questione con cui dobbiamo fare necessariamente i conti in chiave positiva ecco eh la questione in oggetto è proprio quella della eh presenza all'interno del testo scolastico di ragazzi che provengono da altri contesti sociali culturali hanno altre religioni con il lavoro che viene fatto da questo insegnante che fa un vero e proprio brainstorming eh la sua presenza e lavora e spiega ai ragazzi cosa sia accettabile e cosa non credo che sia uno dei passi più interessanti e importanti che lei ha ehm ha indicato e ha testaputo ed è stata proprio perfetta fantastica nel dare quell'inizione di fiducia di cui tantissimo gli insegnanti hanno bisogno io da insegnante ripeto da ringrazio perché eh viene finalmente riconosciuto e valorizzato quel lavoro sommerso di quello parlavo prima di quella eh di quel non detto eh del fatto delle penso per esempio alle checchierate fatte con i ragazzi con gli alunni eh fuori dalle classi all'attività di mediazione che si persegue al provare a parlare con le famiglie come succede per far continuare loro gli studi perché mi è capitato di fare anche questo tipo di attività quindi conosco questa sensazione e un'altra cosa eh di cui lei parla eh è che eh riporta proprio perché non soltanto l'ha vista da vicino ma proprio perché si è confrontata con le parole dei docenti eh tramite la sua rubrica e tramite anche appunto il confronto diretto è il problema che anche lì secondo me eh affligge la scuola italiana proprio da questo terribile eh ventennio berluscoliano dico ventennio purtroppo terribile perché c'è stato un momento in cui questa trasformazione da scuola in azienda ha determinato non soltanto un depauperamento del valore dell'insegnamento e del valore dell'istruzione ma anche burocratizzato l'istruzione con lei giustamente ne parla dice eh spesso c'è questa sorta di burocratismo questo eh uso poco efficiente delle risorse questo copiare dei modelli che vengono dall'estero per calarli in una realtà che è completamente diversa perché eh la scuola inglese o la scuola americana sono completamente differenti rispetto a quella che è l'assetto della scuola italiana che con tutte le sue pecche con tutte le sue difficoltà fino a qualche anno fa sfornava comunque sia delle degli intelletti molto competitivi molto brillanti molto validi ora non so più se sia così è a onor del vero una quota se su questo anziché del proprio suo parere eh una quota della colpa se di colpa vogliamo parlare risiede anche nell'eccessiva semplificazione del linguaggio e dei libri di testo che eh con quei ragazzi insomma si si rapportano io volevo un po' capire il suo punto di vista lei giustamente parla di burocratismo eh ma dal suo osservatorio privilegiato cosa cosa è rimasto cosa pensa ecco no dunque questo questo della burocrazia credo che la soffrano soprattutto i dirigenti perché tutti i dirigenti con cui ho parlato mi hanno detto adesso noi invece di occuparci delle materie o dei ragazzi dobbiamo occupare di riempire carte e ci abbiamo 3.000 carte da riempire tutto diventato burocratico naturalmente anche questo pesa anche sugli sugli insegnanti però credo più ancora sui dirigenti soprattutto quelli che hanno invece voglia di occuparsi delle idee e delle della materia no che si trattano a scuola e questo è purtroppo è un male italiano che va dappertutto e anche in politica anche nelle amministrazioni comunali noi vediamo che è una cosa molto strana che io su cui io mi perdo un po' non so come la pensi ma è curioso perché il nostro è un paese molto individualista molto anarchico come sentimento come come sentimento comune però poi si dà continuamente delle regole così rigide che poi si blocca tutto e non riesce io per esempio sentivo stamattina la radio che parlavano di questi questi miliardi che arrivano no e poi dicevano per esempio gli esperti no perché io non poi non me ne intendo di economia però insomma ci ragiono come tutti e beh dicevano che noi fino ad ora non abbiamo mai saputo spendere come paese i soldi che c'erano già stati dati allora questi soldi che arrivano adesso come pensiamo di poterli spendere se non siamo stati capaci di spendere finora e c'è una domanda inquietante io spero io sono ottimista spero comunque una delle certamente uno dei degli investimenti più immediati più urgenti proprio la scuola secondo me è sulla scuola bisogna investire e poi dopo che vuol dire investire su futuro no e questa è la cosa esatto io a Tati guardo ho preso anche un un passo che vorrei leggere perché mi ha molto toccato lo sottolineato lo ci ho meditato su ecco riguarda è una parte che prende che preso dalla sempre dal sale sulla coda sempre dalla dalla rubrica che è uscita nel 2019 eppure gli innamorati della vita continuano a pensare che senza l'accettazione dell'altro la voglia di aiutarlo senza la cura per la natura il rispetto per la giustizia l'aspirazione della libertà e la difesa della democrazia il mondo si ridurrebbe a un mucchio di detriti senza senso ma lasciamo da parte la screditata parola amore e parliamo della parola dare molti pensano che dare significhi cedere qualcosa essere derubati di una parte di sé o delle proprie ricchezze insomma sacrificarsi il tipo commerciale scrive from è disposto a dare ma solo in cambio di ciò che riceve dare senza ricevere significa per lui essere ingannato gli animi alidi pensano che dare sia un impoverimento chi esalta il sospetto e l'intolleranza non riesce a capire che dare vuol dire invece arricchirsi dare è la più alta espressione di potenza perché dando qualcosa di sé si esercita la propria energia la propria vitalità chi sa dare senza chiedere in cambio sa che si prova più gioia a regalare che a ricevere chi odia non sa che quando dedichiamo attenzione affetto riguardo e rispetto tiriamo fuori la migliore parte di noi e quindi entriamo in ambito sacrale la scuola per esempio come istituzione in forte crisi e non sa più dare niente ma resiste e vive per la rete di insegnanti generosi che continuano ad offrire tempo ed attenzione ma cosa vuol dire dare nell'insegnamento semplicemente saper creare un dialogo ovvero usare la pratica dell'attenzione della comprensione dell'intelligenza affettiva verso l'altro vuol dire attivare un processo di conoscenza che aiuterà sia l'alunno che l'insegnante e arricchirà la comunità nel suo delicato momento di crescita comune ecco questo che è un passo secondo me di una grandissima delicatezza mi ha molto fatto pensare su come in realtà oggi la prima cosa che manca nella scuola è l'attenzione da parte della classe politica perché non è soltanto un discorso di dare fondi dare economia dare e anche un l'idea l'energia appunto il pensare ad un investimento etico ed emotivo che in questo momento in Italia manca completamente sulla scuola quando parlo di etica parlo di emotività parlo proprio di mettere l'attenzione su qualcosa che si fa passa anche attraverso le problematiche legate dalle risorse economiche non dobbiamo negare non dobbiamo dimenticare che gli stipendi degli insegnanti sono forse se non i più bassi tra i più bassi di tutta Europa ma è proprio un discorso proprio legato all'atteggiamento che da 20 o 30 anni le forze politiche hanno nei confronti della scuola la scuola non viene vista più come qualcosa in cui investire viene considerato più importante investire o premiare per esempio attraverso il reddito di cittadinanza piuttosto che spendere una quota del patrimonio per consentire alle persone non di utilizzare questo reddito ma di poter utilizzare la propria testa, le proprie capacità, la propria emotività per mettere al servizio della collettività sono perfettamente d'accordo io insisterei su questa idea perché c'è un equivoco cioè si pensa che dare vuol dire scambio cioè un'idea commerciale dici io ti do perché tu mi dai questa è la base dell'idea del dare che è quella proprio del commercio io ti do qualcosa a te perché tu dai qualcosa a me che poi è l'idea terribile è un'idea mafiosa alla fine e invece bisogna tornare all'idea del dare come senza nessun cambio quello è il vero dare c'è una differenza fondamentale il dare senza aspettarsi nulla non è uno scambio è un atto di generosità ma se vogliamo uscire da un'idea buonista ma dico l'idea dell'energia che è bellissima l'idea di Fromm dice è un atto di grande energia ed è l'energia comunicativa quindi dare non vuol dire dare per ottenere qualcosa perché quella è la base forse la cosa più tradizionale più arcaica l'idea tradizionale arcaica è quella perfino si usava con Dio io ti faccio un sacrificio mi ammazzo una bestia la brucio faccio sacrificio ti do questo però tu mi dai in cambio qualcosa che è un'idea forse Cristo è stato io da laica però penso che Cristo è stato un grande rivoluzionario e forse Cristo è l'unico che ha dato che ha pensato che si può dare senza pensare di ricevere in cambio qualcosa si dà la propria la propria la propria generosità la propria vitalità la propria comunicatività la propria voglia di dell'altro di essere vicino all'altro questo è dare sono però due cose fondamentali e secondo me c'è un equivoco perché generalmente si pensa che il dare sia uno scambio io do perché tu mi dai do des come dicevano i latini che però è un'idea assolutamente commerciale sì c'è questa questa idea che spesso e qui ritorniamo al problema dell'idea della scuola vista in chiave aziendalistica per cui io stato formo te perché tu poi possa diventare fondamentalmente un bravo operaio perché questa è una considerazione assolutamente personale però ho notato che questa virata ecco la scuola intesa come azienda ha fatto sì che la prima cosa ad essere impoverita sia stata lo studio delle materie umanistiche le materie umanistiche sono fondamentalmente lo strumento attraverso cui nessuno me ne voglia ma è così nella persona si crea lo spirito critico nella persona si crea una maturazione si ingenerano processi attraverso cui si forma una coscienza di sé dell'altro del proprio ruolo all'interno della società e il fatto che questo tipo di materie questo catalogo di materie abbia subito un progressivo impoverimento mi fa quasi pensare che ci sia una sorta di volontà del trasformare lo studente non più in cittadino consapevole quanto piuttosto in persona pronta ad inserirsi all'interno dei gangli produttivi della società che poi questi gangli produttivi sono anche lì molto da vedere ma lasciamo stare è un'altra è un'altra davvero è un'altra chiave di lettura che lei offre e che torna in realtà un po' come una sorta di filo rosso proprio per tutto il libro anche nei racconti in realtà ho trovato proprio questa sottile chiave di lettura anche se lì si declina una materia sicuramente più intima, più delicata però c'è questa grande attenzione nei confronti del futuro, nei confronti dei giovani come depositari del futuro ed è una cosa che mi ha molto intenerito perché lei ha avuto anche la grande correttezza di puntare l'attenzione sul fatto che ormai l'Italia è un paese di vecchi, diciamo le cose come stanno a cominciare dalla propria classe politica, la classe politica che noi abbiamo non è soltanto matura ecco siamo delicati da un punto di vista anagrafico ma è anche molto matura è molto agee dal punto di vista proprio della mentalità, del modo di fare, del modo di porgersi ecco in tutto questo periodo di pandemia la cosa che io ho notato che mi ha molto colpito è stato il fatto che si sia privilegiato giustamente, santamente il mondo della sanità si è privilegiata e si è tutelata soprattutto la salute delle persone più anziane ma in realtà si è speso di fatto pochissimo tempo per affrontare il problema della scuola per affrontare la possibilità per i ragazzi di lavorare in maniera serena e questa è una cosa che mi ha colpito perché alla fine ciò che veniva i problemi che venivano sollevati più delle volte erano problemi che venivano dal basso noi parlavamo della difficoltà della scuola scusate perché c'erano i ragazzi che con il banco e il plaid si mettevano davanti la scuola per fare lezione vicino al loro ambiente, vicino alla loro area che gli apparteneva ma non abbiamo avuto fino ad oggi un'idea del torniamo in classe oggi si è detto torniamo in classe ai presidi, ritorniamo al burocratismo di prima ai presidi si è devoluto l'idea del fate voi, fateli entrare voi, pensateci voi ecco il suo punto di vista, il suo osservatorio privilegiato su quello che è stato fino ad oggi le sono state le reazioni dei ragazzi e dei docenti nella scuola proprio in questo anno di traversata nel deserto perché in me personalmente, non so se anche a lei è accaduto questo si è verificato una sorta di odiosincrasia per alcune parole per la parola pandemia, per la parola virus, per la parola contagio perché sono state talmente tanto usate da essere svuotate il problema della parola è che spesso quando si usa viene svuotata di significato quindi io preferisco parlare di questo periodo della scuola e della nostra società come veramente una biblica traversata nel deserto oggi lei come vede questo momento, questa difficoltà che stiamo attraversando? Vedo che è un dramma, è una tragedia, forse è più di quello che noi pensiamo però io non darei la colpa ai virologi perché dicono tutte cose diverse perché in effetti c'è un virus, è nemico, non sono i vari, anche prendersela con speranza secondo me è sbagliato speranza fa il suo lavoro, voglio dire ma fa il suo lavoro, però quella incertezza che noi vediamo nei politici e negli amministratori, nei virologi ognuno dice una cosa diversa perché il virus è così, cioè è imprevedibile questo virus, è imprevedibile, è misterioso ancora non sappiamo quanto dura, da dove viene, non lo sappiamo non sappiamo se uno dopo che è vaccinato rimane immune oppure se è ancora contagioso non sappiamo se le nuove varianti agiranno e saranno agirate dal vaccino o no tutto questo non lo sappiamo quindi la cosa più onesta sarebbe dirlo bisognerebbe che chi si occupa di queste cose dica noi non sappiamo, non sappiamo quindi non possiamo dare delle risposte certe tutti dicono dateci risposte certe ma come si fa a dare una risposta certa se è un virus che non dà nessuna certezza abbiamo visto quello che è successo in Sardegna che era la zona bianca e poi improvvisamente diventava la zona rossa perché la gente ha pensato che era finito quindi non sappiamo bisogna essere prudenti bisogna seguire quello che succede certamente però siamo in un momento molto drammatico nessuno si aspettava che ci fosse che circolasse un virus così imprevedibile imprevedibile che questo è il problema che è un virus imprevedibile non si sa perché oggi viene fuori dal Brasile poi domani viene fuori l'India tutte varianti che dicono ah non sappiamo se questo virus che questo vaccino servirà anche per le varianti capisci che è tutto è tutto estremamente ambiguo e questo crea ambiguità e crea incertezza la gente è angosciata questo purtroppo è così la scuola però secondo me la scuola è l'unica cosa su cui bisogna puntare è dire in sicurezza andiamo avanti con la scuola veramente se c'è una cosa che non si può fare per via remoto è la scuola è l'unica cosa forse insieme col teatro insomma è l'unica cosa che deve essere fatta in presenza la scuola ha bisogno della presenza perché come ho detto prima è anche un apprendistato per il sociale no? per stare con gli altri le persone che non sono la famiglia e imparare a trattare a riferirsi e a confrontarsi con degli altri bambini che a volte sono magari di un'altra religione di un'altra origine sociale anche geografica tutto questo in famiglia non si può fare quindi la scuola lo può fare ed è importantissimo in un momento in cui tutto sta cambiando in un momento in cui c'è la globalizzazione in un momento in cui ci troviamo per esempio di fronte a un problema molto grande che è quella della immigrazione che porta ai problemi di identità io sono naturalmente per accogliere per carità accogliere poi soprattutto non fare morire la gente in mare che è una cosa obrobriosa però non c'è dubbio che l'arrivo di tante persone di altri costumi di altre abitudini culturali crei un problema di identità questo non lo possiamo negare lo crea allora ancora di più noi dovremmo essere forti credendo nelle nostre conquiste tanto da in qualche modo convincere senza imporre nulla ma convincere gli altri che queste sono le conquiste importanti che valgono per tutti gli esseri umani questa è la cosa difficile è difficile è molto difficile però è il grande problema del momento e la scuola secondo me questi problemi li può affrontare c'ha i mezzi per affrontarlo c'ha la capacità di farlo e lo deve fare in questo senso è un grande apprendistato sociale etico come dicevo prima non c'entra niente cioè le nozioni va bene ma le nozioni si possono prendere anche su wikipedia le nozioni ormai è diventato talmente facile accedere alla storia alle nozioni che non è più quello il problema della scuola naturalmente ci sono le nozioni per carità io non le voglio eliminare però attraverso le nozioni si deve arrivare a qualcosa di più complesso che è appunto la complessità della consapevolezza storica della consapevolezza della memoria della consapevolezza del rapporto col mondo con la società queste sono le cose su cui la scuola si deve in qualche modo confrontare assolutamente d'accordo anche perché la scuola è quella che offre almeno dovrebbe offrire gli strumenti intellettivi per decodificare la realtà in cui noi viviamo e quindi anche aiutare ragazzi prima i bambini e poi i ragazzi a creare quegli strumenti di pensiero che possono guidarli nella formazione di uno spirito critico nella formazione anche di una di un catalogo di strumenti che ti aiutano a conoscere effettivamente la realtà al di là di quello che può essere la mezza stringa su facebook la mezza parola letta su instagram cioè cercare avere la capacità e il coraggio di cercare di approfondire l'informazione lei ne parla ne parla sempre come dicevo in questa raccolta di saggi e al di là dei racconti su cui pure ci sarebbe moltissimo da dire tra l'altro personalmente ho apprezzato moltissimo i racconti di quando lei parla appunto del suo periodo scolastico un po' mi sono rivista soprattutto in certi passaggi quando si parla di certi professori ma non tocchiamo i tasti ecco al di là di questo proprio una domanda molto concreta molto diretta oggi la scuola ha perso di credibilità anche perché è venuta meno forse una cosa che è stata letta secondo me in chiave molto negativa ma che di fatto aveva il suo peso aveva il suo ruolo cioè la meritocrazia oggi in Italia la meritocrazia è un po' diventata un'altra di quelle parole di cui si parla tanto ma che in realtà è stata anche questa spogliata di significato lei quando parla di meritocrazia oggi nella scuola cosa vuole dire ragazzi cosa vuole dire ai suoi lettori beh questa fa parte della cultura la meritocrazia è una conquista culturale non è soltanto un'idea astratta è una conquista e certe volte secondo me e soprattutto il sud d'Italia che è stata tanto sotto il dominio di altri di altri paesi ha sviluppato una specie di idea che che le cose non si ottengono per il valore ma si ottengono per il favore per l'appartenenza eccetera che è una cosa molto arcaica ma secondo me dovuta proprio a un'abitudine a un'abitudine di paesi purtroppo dominati dallo straniero questa è la nostra storia noi siamo sempre stati sotto i gormoni austriaci tedeschi i francesi gli spagnoli gli arabi insomma e allora c'è un po' l'atteggiamento di pensare che lo Stato cioè l'amministrazione sia un nemico da cui bisogna in qualche modo fuggire o anche o anche prendere in giro e in qualche modo maltrattare cioè l'idea furba no? la furbizia nasce da questo nasce dall'idea che lo Stato era un nemico e quindi bisognava in qualche modo sottrarsi al suo dominio però adesso non c'è più non ci sono più gli stranieri adesso siamo noi quindi infatti secondo me anche per esempio questa enorme quantità di tasse non pagate è una cosa gravissima gravissima perché 150 miliardi di tasse non pagate vuol dire che è una cosa molto diffusa e secondo me questo rientra sempre in questa mentalità l'idea che lo Stato bisogna derubarlo lo Stato perché lo Stato è nemico è nemico però questo apparteneva a un'epoca in cui lo Stato effettivamente era straniero ma essendo italiano non è più nemico siamo noi però è rimasta un po' quella mentalità e la meritocrazia rientra secondo me in questa idea cioè l'idea che non conta il valore perché perché non si ha fiducia nel fatto che il valore sia ricompensato e riconosciuto si pensa che bisogna in qualche modo appartenere o appartenere a un gruppo appartenere a una società appartenere a una famiglia appartenere a una classe appartenere insomma c'è l'idea dell'appartenenza la bandierina che è naturalmente il contrario della meritocrazia purtroppo per esempio io quando vado all'estero e vado spessissimo adesso in questo periodo ma sempre io trovo ma tanti tanti per esempio siciliani calabresi che in sicilia e in calabria non riescono purtroppo a fare niente che hanno dei posti di grande responsabilità di grande responsabilità e l'hanno ottenuto in poco tempo perché perché appunto c'è la meritocrazia e questo è una grave mancanza la nostra è una mancanza gravissima però come ho detto non è una cosa che viene dall'alto la meritocrazia la dobbiamo sentire tutti o appartiene a una cultura oppure che succede che poi appunto i ragazzi piglia e se ne vanno e vanno fuori e tra parentesi questo dimostra ancora una volta come la cultura la scuola l'istruzione ma alla fine sia di altissimo livello che accediamo rapidamente a questi livelli a queste non sarebbero pensati all'estero perché vanno preparati i ragazzi che escono naturalmente vanno via migliori e poi lì trovano subito chi apprezza chi li considera li valorizza valorizza esatto benissimo noi siamo quasi al termine di questo incontro io l'unica cosa che posso dire ripeto il titolo vi faccio vedere di nuovo la copertina la scuola ci salverà che è non solo una raccolta di saggi ma ci sono anche tre bellissimi racconti di cui non abbiamo parlato perché personalmente pensavo e spero di non aver sbagliato e spero che la signora Maraini sia d'accordo con me almeno in questo passaggio che sia a più che è ormai importante oggi parlare della nostra realtà vedere come la nostra realtà si evolve e farlo attraverso gli occhi di una grande intellettuale ciò che veramente colpisce e questo non mi stanchero di dirlo è la lucidità di pensiero è il modo in cui lei è stata in grado di fotografare davvero lo status quo di un paese che per tanti versi è diviso a metà per tanti versi è addirittura frammentato in maniera quasi esplosiva ma sono ritratti sono focus che lei riesce a fare con una chiarezza ad avantina con una capacità davvero straordinaria di fotografare il qui e ora la cosa bella ma nello stesso tempo drammatica purtroppo che talvolta questi qui e ora risalgono al 2015 al 2016 al 2008 e quindi vediamo che davvero in certi aspetti la società italiana è arrestia ad accettare il cambiamento arrestia a metabolizzare il cambiamento soprattutto per quanto riguarda la questione femminile appunto lei parla anche dei femminicidi non parla soltanto della scuola parla proprio della cultura dell'integrazione a 360 gradi e credo che davvero noi oggi più che mai abbiamo bisogno di testi come questo che parlino alla nostra cultura alla nostra scuola e alla nostra sensibilità di cittadini prima ancora che di lettori io ringrazio tutti voi per averci sentito seguito ringrazio la signora Marini per la sua disponibilità e ancora una volta per la sua grandissima lucidità e chiarezza è stato un piacere anche io grazie grazie di cuore a tutti grazie grazie a te grazie 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 a te grazie a te grazie a te